Benvenuti ragazzi sul canale di Galloz, un nuovo episodio della nostra partita con i nani del caos in Total World Warhammer 3 Nello scorso episodio abbiamo completato la guerra contro Archon, abbiamo fatto pace dopo aver conquistato gli esserci difesi Abbiamo fatto anche pace con i vampiri, non perché non potessimo farli fuori molto rapidamente Ma perché purtroppo qua c'è ancora questo esercito di elfi, lui in particolare, che è in grado di distruggere quasi tutti gli eserciti se non vado ad affrontarlo con le truppe giuste Ma la cosa peggiore sono stati gli ogre che hanno rotto la tregua con noi e ci hanno attaccato Che di base non è buono perché ovviamente hanno conquistato questa città Ma la cosa peggiore in realtà sul lungo periodo è che hanno portato dietro i loro due alleati, ovvero le due fazioni del Katai Quelle del nord e quelle occidentali E questo è un problema, anche perché fra poco loro conquistano questa città Che ovviamente le renderà molto più forti E a quel punto potrebbero venire a rompermi le valle al di là del fronte Vorrei capire se c'è la meccanica, anche in questo caso, degli attacchi ogni tot turni Perché finora non li ho visti Spero sia così, perché non è che deve esserci solo se c'è il giocatore Perché sennò il Katai diventa abbastanza fortino Comunque, abbiamo un bel po' di cose da fare anche in questo turno Cioè, spero questo episodio vuol dire più turni, ma non è mica detto per come sta andando Dunque, questo esercito qua adesso lo voglio portare di lì Ma prima di tutto andiamo a prenderci questo seggio qua Che aumentiamo la corruzione del caos in tutte le province Ah no, è un 142, non si può Allora prendiamo questo Così provociamo immediatamente una breccia nelle mura E prima li prendiamo meglio è perché ci sono quelli che hanno bonus Quindi, per esempio qua abbiamo abbassato di 1% il mantenimento Facendo solo questo gesto E ora guadagniamo 8000 Poi, tu, ho deciso che Non voglio rivedere Tolgrim Quindi, visto che è morto relativamente da poco Prepariamoci per attaccarlo Il più rapidamente possibile Dobbiamo andare lì, quindi vai qui E poi il prossimo turno attacchiamo questa città immediatamente Senza aspettare nessuno Via E cerchiamo di eliminare almeno una fazione Potrei perdere questa città Pazienza L'importante è che loro perdano rupe nera Mi farebbe davvero piacere Poi Da questa parte Qui c'è la palude Quindi stiamo perdendo vita Diciamo quasi inutilmente Facciamo così Tu te ne vai Tu ti prendi questo E te, mi spiace ciccio Ma Vediamo solo se sei vestito Ok Che cosa c'hai? Via Doni di rupe nera Scudo riflettente Buono Punti in barriera Abbiamo aggiunto un'unità Uh, un gigante Perfetto Perché nello scorso episodio qua abbiamo fatto una battaglia Con Contro Luna Gobba Che ha attaccato Vicino questa città Questo esercito che era qui E la carovana Che doveva andare A rupe nera Che è passata senza problemi Ma Non abbiamo fatto la battaglia Quindi abbiamo perso Diciamo La salute dell'unità Nulla è un'unità stesse Ma come vedete in realtà è andata bene Quindi ora posso farne un altro Sì, ho disponibile questo Dominio Katai Che è pieno di unità rare Pazzesco Quindi selezioniamo lui Perché gli altri ovviamente non si può Non ho abbastanza armi Per fare quello delle armi Porca miseria Guarda qua Costa 500 Eh ma questo qua Con così poche armi Ne vale la pena E oddio Qua potremmo anche andare Ora siamo in pace con tutti Una cosa abbastanza rapida Un po' di armi Per un po' di Manodopera Armi per soldi Noi soldi Direi che ora Sono l'unica cosa Che non ci manca Noi viaggi così lunghi Con un carico così piccolo Non lo voglio fare Però dobbiamo aumentare La nostra produzione di armi Assolutamente Adesso vediamo come fare Anche quella cosa lì Dunque ora tu sei al massimo Io cercherò di andare qua Per fare in modo Che lui voglia tornare indietro Probabilmente questo qua Al prossimo turno Ci distrugge lì Noi potremo metterci In una posizione tale Per attaccare qua E così tu Risari su di lì Questi non dovrebbero Avere le mura Ha un'unità Tutto sommato standard Un po' di arcieri Questo qua si chiama Inimir Vabbè ma sono sempre arcieri L'unica roba Che qua non reclutiamo Scusate non mi ricordo una cosa Esce un attimo Mettiti così Ok si può fare Quindi vai di qua Così che il prossimo turno Siamo in raggio Per attaccare di lì Ok Questo esercito è proprio base Perché Lui è piccolino Ma vabbè Di qua e di là A posto Tu fatti vedere Che lo metti Gli fai paura E si caga addosso Perfetto E direi che L'abbiamo mossi Tutti gli eserciti No No manca questo Che in realtà Lo manderei indietro Ma Facciamo Un bel saltino Perché il tuo scopo È andare lì Quindi vai qua Sulla strada Ok Poi ho messo in costruzione Le mura Perché potrebbe servire Facciamo anche le spezie Quindi diciamo che Questa zona qua È molto particolare Non è Non è una cosa strana Allora Questa l'abbiamo fatto La diplomazia l'abbiamo fatta L'abbiamo mossi Tutti No Visto ancora qualcuno Che si poteva muovere Ok Niente E te rimani Quindi questi qua Li abbiamo mossi tutti Ora Costruzioni In realtà Un bel po' di soldi Ma prima di costruire Li vado a spendere Questo Penso che ora Non ne valga la pena Nel senso che Preferisco tenere L'ordine pubblico decente E fare soldi Dove posso Meno 5 Ma potremmo far così Per essere sicuri I turni successivi Qua è a meno 32 Che non è buono Passo rupe Fai questo Soldi 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 Ok Dov'è che ne abbiamo troppi Lì va bene Qua Sono pochini Dagliene 100 in più Qua va bene Qua fai così Qua si possono togliere Va bene Va bene Ok Poi qua fai così A meno li utilizziamo Teoricamente qua Non li ho usati Quindi 27.000 Adesso Costruiamo Quello Che dobbiamo costruire Qua ci sarebbe Da aspettare L'editto Quindi Mettiamo l'editto Prossimo turno E costruiremo Tutto Potremmo fare Soldi Per soldi No Ma aspettiamo Il prossimo turno Che non c'è fretta Qua non facciamo Niente Perché Potremmo perdere La città Qui non c'è Niente da fare Qui c'è L'editto Buono Allora Dobbiamo andare Al ferro Fai questo E qua Letteramente Tutto in costruzione Potremmo Pompare questi Per andare Un po' più forte Ma va bene Così per ora Vorrei Non spendere Le armi In realtà Ma io qua Vorrei fare Questa struttura Qui Questo Non mi interessa Tanto Sì capacità Di magia La magia Non è male In realtà Quindi Mettere quello slot Lì ci può stare Le mura Qua Non mi servono Tantissimo In teoria C'è una zona Molto lontana Teoricamente Potrebbero essere L'ultima parola Le famose Ma Spegniamoli Da altre parti Ecco qua Allo stesso discorso Questo ci può fare Anche se non ce l'hai ditto Fai quello Qui ce l'hai ditto Bene Giù torno a fare così Qua è già Sbunato A posto Vabbè Non sto a cambiare Ditto Per una Per una Costruzione Sola Ok Non facciamo Niente Ma potrei fare Questo Ma non so Se questa Buttiamo via 900 No in realtà È stato molto Stupido Perché qua C'è il legno Quindi Poi questa qua Non ci sarà Allora Inizierà a scendere A scendere O meglio Beh sì Considerando che noi Saliamo di 12 Tecnologie Probabilmente le avremo Entrambi a 100 Però Quando questo qua Aumenta di tanto Diamo un debuff A questo Che equivale a Il nostro Meno 5 Qui vedete Quindi lui avrà Un meno 5 Qua Noi un più 9 La risolviamo solo Quando li attaccheremo Cosa che non è prevista Nel breve Allora Qua Potrebbe avere senso Fare questo No in realtà Se di livello 3 Vorrei fare quello lì Quindi non costruire niente Questo serve Ad aspettare Il prossimo turno Questo qui Non serve molto È una zona Dove non dovremo Reclutare Però Visto che c'è qua lui Potremmo anche Doverlo fare Ma non abbiamo Cose da fare Ok Questo qua Lo porto in su Questo qua È una torre Da 4 Cioè È abbastanza inutile Tutto sommato Se non c'è questo Che non costa niente Da soldi Quindi in realtà È buono Ma non abbiamo Le strutture Aspetta In realtà Questo potrebbe essere Non molto intelligente I soldi Comunque li ho finiti No vabbè È abbastanza lontano Ok Costi Vento Scorciatoia Corrocevia Riserve Naturali Gli eserciti Si ripristiano In territorio straniero Andiamo Verso questo Che È abbastanza importante Adesso abbiamo Pure il gigante Perché siamo andati Nei territori Loro Basta Cos'è che devo fare Ancora Te Allora Vabbè Mandiamo lui Adesso non avrei Nei soldi Nei armi Quindi facciamo questo Usiamo le armi 300 Qui perché ci mette Tre turni Letteralmente Anche se siamo In guerra Con questi Potremmo fare 4 No facciamo questo 4 turni Soldi No Un po' di mano d'opera Dai Questi sono 6 turni Un po' di mano No è meglio qua Meglio lì Questo si potrebbe fare No vabbè Non abbiamo i soldi Che lo spesi giustamente Tutti Sì Secondo me vai qua Ok Tanto come mano d'opera Siamo In realtà Messe abbastanza bene Considerando che li sto sacrificando In vari modi E Costumi vari Ok Non dovremmo Dover fare altro Questo turno È stato Molto importante È stato molto importante Dobbiamo stare attenti A cosa farà questo Che sicuramente Ci attacca qua E vabbè Questa Non ci possiamo fare molto Noi portiamo le truppe qua Poi cerchiamo di saltare Passando sotto terra E dobbiamo andare a far fuori questo Però lui è già sulle sue tracce Che è buono Questo qua è l'esercito Più pericoloso Ma ho dietro due eserciti E Dovremmo riuscire a cavarcelo In qualche maniera Dai Teniamo Il focus qua Perché il primo a muoversi Teoricamente sono questi O gli eserciti Del katai Se ci invadono Da oltre il bastione Questo ha subito un po' di danni Il punto è che Io non ho La capacità di uccidere questi Con questi Non fanno abbastanza danno Quindi fuori Vai verso la sentinella No ti metti lì in mezzo Giusto per farti attaccare Perfetto Questo è il solito disastro Vediamo se attacca a me Che comunque è buono Perché non volevo che andasse a nord Sconfitta di misura Io mi ritiro E però Se ti ritiri lì Uh Non riesci ad attaccarmi Bene Ci siamo allontanati Abbastanza Che tu vuoi Niente alleanza militare Te l'ho detto Amici Ma fino a un certo punto Ora lui sarà un po' in crisi Perché questi due eserciti Potrebbero fare Abbastanza male Vediamo cosa fa Questo Ecco Importante Far fuori loro Prima che si confederino Perché se no Eliminare questo Diventa impossibile O comunque diventa Una cosa molto più lunga E ci sarà la crisi Di fine gioco In mezzo Quindi Non buono Per fortuna Non riescono ad attaccare Sartosa Questi Ora stanno venendo Verso di me C'è questa città In mezzo Questa Non gliene frega niente Non la prendono Per qualche ragione Luna gobba Vediamo se va su No Conquista rupe nera Ti prego Loro lì hanno tirato fuori Un esercito Attaccali Sì Questa è una buonissima notizia Hanno perso I pelle verde Però Hanno indebolito I nani Perfetto Speriamo Qualcuno conquiste rupe nera Così gli salto subito Al collo E in questo turno C'è Carac Degli otto picchi Da conquistare Allora Sedimento perduto Solo uno Purtroppo Ci ha danneggiato lì Ma vabbè Questi non li spendo Così La carovana Fra tre turni Le finiamo due Allora cerchiamo Di tenere questi da parte Per avere Armi da vendere Allora Iniziamo Dalle cose semplici Eh non c'è neanche fool Vabbè Allora Dimmi che non c'è Tolgrim Non c'è Tolgrim Oltretutto Attaccando questo Possiamo attaccarli fuori E' un po' che non vediamo L'esercito di Goblin Combattere Potrei aver voglio Di fare quello Come prima mossa Poi qua Hanno tirato fuori Qualcuno Qui dentro Ma noi siamo in grado Di attaccare direttamente Qui Sconfitto onorevole E invece Sarà una vittoria nostra Ma questo È una cosa lunga Da fare 6 turni 16 turni Eh Come mai 39 turni Wow 39 turni 39 turni Wow Va bene Allora Tu ci arrivi? No La cosa buona È che con questo Però io posso cercare Di scappare Sottoterra Tipo mi vado a nascondere Qui E lui non mi vede più O se no Posso passare Possiamo attaccare Questo Questo esercito Lo mandiamo a suicidio Ok 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 Vediamo da qua Se c'è qualcosa Qualche brutta notizia Per ora no Questo alla fine Lo usiamo come esploratore Devo capire Chi c'è da questa parte Chi Come Perché Soprattutto Ok Te Pianpirino Ti sposti indietro E recluti Mentre turni Non so se voglio Guidarti nella guardia infernale Eh io ho il problema Che siamo ancora Un turno Relativamente Giovane E con la fazione Che abbiamo Non abbiamo prodotto Tante armi Quindi Non ho tanti Di questi Liberi Potremmo andare A togliere Un po' di roba qua Mi costa questo Fare così Facciamo che lo facciamo Alla fine del turno Se Se verrà attaccato O meno Letti deras E in questa posizione Tu sicuramente Recluti Abbiamo un sacco Di tiro Valutiamo A fine del turno Che tech Facciamo Perché adesso Ordine pubblico Dovrebbe essere Buono Circa E addirittura Abbiamo Fra tre turni Un più cinque Rispetto alla situazione Attuale Questo qui Ci dà Rapporti Con quei tizi Lì E aumentiamo La corruzione Che non è Affatto male Decreto Quote maggiore Di produzione Arvamenti Aggiuntiva Ah ok E aumentiamo Anche i soldi Beh questo qua Secondo me ci sta Andiamo in quella Direzione lì Perché a livello Militare Non ci sono cose Che mi fanno impazzire Questo Per aumentare Le loro unità Ma abbiamo Già quello Per le truppe Normali Che in realtà È più importante Quindi facciamo Prima Quello lì Questo Mantenimento Edificitore Capacità Di movimento Di movimento Con Quella struttura Lì che non è male Neanche lei Questa cosa qua No ma andiamo Da questa parte Andiamo da questa parte Quindi Sei turni qui Poi metallurgia Quelli del metallo Non li ho Quindi non ci interessa Molto Edifici del tempio di asciutto Tengono più 5 conclave Costruzione Uno in meno Per quello lì Vabbè Direi di no Più influenza del conclave Questo ci potrebbe anche stare Perché con tutte le torri Che abbiamo È tanto In più ogni turno E viene utilizzato Per creare altre torri E questo qua Ovviamente è forte Da questa parte Questo non serve a niente Oddio Oggetti magici Che compaiono Non è male Poi Bonus Per gli eroi Costo Della magia Della morte Probabilità Di incidente Ridotta Va bene Rapporti Che non mi interessa Costi di costruzione Ridotti Del 10% Ulteriori Dai Iniziamo ad andare Fino lì Che va bene E Facciamo Come primo Combattimento Questo E È scappato È scappato J'ai scappé Pronti al dovere Pronti al dovere Ah C'è una cosa importante In realtà Non è che posso Attaccare a caso In questo turno qua Posso creare Se razio Un esercito Un esercito di Goblin È importante Questa cosa Quindi Li aspetto Facciamo questo Che tanto Non devo razziare Questa battaglia Ce la facciamo Direi di sì Se non scappa Vittoria di misura Vedete che non combattiamo Contro gli ogri Da tantissimo tempo Mi piacerebbe Fare questa battaglia Anche perché Perdite medie Non mi piace molto E poi abbiamo Tutte queste spell Da utilizzare Dai Facciamo fuori Gli ogre Ci riconquistiamo Tutto quello che è nostro E Dove lo facciamo L'esercito Probabilmente L'apposto migliore Sarebbe Karak Degli otto picchi A pensarci bene Per la battaglia È difficilissima Però Volevo prepararmi Un attimo meglio Qua abbiamo Due Maghi Lui non è un mago Quindi canalizza la magia Sperando che salga Perché Cioè Noi abbiamo delle magie potentissime Giochiamo sempre senza Che palle Vabbè Ok Poi Ma tu sei finito qua No forse No mi sa di sì Che sei finito qua Ok 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 Sì Colpisci i leoni col fuoco Ok Loro hanno l'artiglieria A questo punto Quindi dobbiamo fargli fuori l'artiglieria Fra poco abbiamo le spell Ok Allora direi di iniziare con Un colpo di Precisione balistica Vediamo se scappano in tempo Non penso ce la faranno Invece sì Quanto lento Oh Bene Poi anche questo Secondo me È divertente da vedere Proprio difficile Sulla unità che si spostano Provaci ancora Un po' sprecata Secondo me su questi Perché sono poche entità Via via Leoni eliminati L'hanno cannato completamente Scappa di lì Aspettiamo di essere In melee Usiamo le nostre spell Ok Questi due dovrebbero riuscire a distruggere questi Scambiatevi un attimo perché Il Lamaso Attacca a distanza Questo qua Attaccami lì Che cavolo Allora potenzia A tutti quelli in questa zona Bene Poi facciamo Così Questo lo tiriamo fuori qui E penso che si possa fare anche uno sbombardamento In questa zona Già scappano tutti Sbombarda Lo facciamo così Vediamo un bombardamento Che bello Questo ritirati Eliminati No tu Proprio fai fuori quelli Che non devono esistere più Ok Ormai questo qua sta blinkando Oh Cosa gli è successo? Ma a caso è full vita? Me ne ho fatto una spell evidentemente Distruggilo per favore Ok Ok il loro lord nemico è scappato Il nostro si è ripreso Improvvisamente alla fine Quello è caduto Tu aiuta lui Ma tu Al posto che volarci sopra Non puoi atterrare E spaccarlo Ok Buon Natto di là Tu mi segui quelli Tu mi segui quelli E riusciamo magari A prenderne con alcun altro No Termina battaglia Ok E questa L'abbiamo portata a casa Non dovremmo averne perso Nessuno Loro in teoria Tutto l'esercito Chi è che mi ha fatto Scappare il lord? Cioè guardate Quanti danni ha subito Non capisco O sono stati questi Che l'hanno massacrato Non mi sono accorto O lui è stato una spell Perché non ci sono Altri di mezzo In un esercito Di questo tipo I lupi Sono comunque Sempre molto utili Ecco vedete Che questi qua Muoiono Come se niente fosse È rimasto vivo Solo questo Penso che l'esercito Sia Totalmente andato Un po' di mano d'opera No Sono mica i soldi Capacità di ruolamento Più uno Per le guardie infernali Bene Ok qua Sei arrivato Andiamo a vedere Più vita Perché Quanto pare serve Con dottor Kano Due maghi Dovrebbero Comunque avere La forza Di fare delle spell Non dico tante Ma delle Grugno pugno Perfetto Esercito eliminato Ok Ora tu Il prossimo turno Vai di qua L'esercito di ogre Che ha rotto le palle L'abbiamo eliminato Ok Ora stavo pensando A una possibilità Di fare una cosa strana Tu vai lì dentro Tu vieni qui Visto che Il nostro lord Principalo Ovvero lui È dentro Un insediamento Forse posso fare Teleporto qua Ok Ok Dentro Un insediamento Non si può fare Fuori Un insediamento Non si può fare Si può fare Solo in alcune Possibili Tipo qui Teoricamente E forse Me lo ritrovo qua Quindi andiamo A prenderci Questo Dai Teleporto Dobbiamo combatterla Questa Danni penetranti Da arma Ok Loro hanno Cos'è questa cosa Non capisco Lo sparaferro Ah è tipo La loro Artiglieria Ok Ma io ho un sacco Di cavalleria E ho artiglieria Anche dalla mia parte Quindi facciamo Questa battaglia Oggi ogre Ragazzi It's time for ogre Ok Una battaglia Una battaglia Interessante Occhio che potrebbero Arrivare Ogre a tutte le parti Però se Dopo questa battaglia Lui rimane In questo punto E mi piacerebbe Molto E' buono Perché di fatto Mi sono teleportato qua E attacchiamo In questa zona Allora Loro sono tutti Cos'è questa cosa Ma state scherzando Cioè con le mie abilità State qui Bello però Questo Bello si E' normale Che stiano tutti lì Non credo Vabbè Che raggio C'ha questa artiglieria Non ci riesce Neanche a prendere La mia invece Neppure Quindi siamo Molto lontani Secondo me Da qua esce fuori Qualcosa Che non ci piace Così eh Non penso Da dietro Potrebbe arrivare Qualcuno da dietro Ma sicuramente Il problema è lì Quindi stiamo Più lontano possibile Attacchiamo da qua O almeno Penso possa essere lì Il problema Questo è un drago enorme Peccato Non poter vedere Questi esseri Ancora in vita Comunque Senza perdere Ulteriore tempo Infanteria Io sto di qua Avanziamo Da questa parte Questa è la nostra Cavalleria con lui Cioè è vero che Con astragote I centauri sono forti Però forse Ho esagerato Ok Te vieni di qua Perfetto Poi tiro Va bene Questi Facciamo così Ok iniziamo La battaglia Uccidi i campioni Delle fauci Se stessero Tutti lì Fra 40 secondi Sarebbe proprio Un godimento Puro Ma non penso Accadrà Nuovo obiettivo Rivendica La reliquia Ok Ah questi qua Dovrebbero Hanno bonus contro grandi Però ce li ho anch'io Bonus contro grandi Quindi tutto sommato Fra 3 secondi Qua facciamo un disastro Faccio Questo per tenerli in posizione Perché ne vale troppo la pena Contro Yogra Non è mai Una buona spell Però Che via Attacca in quella zona Tira una bordata Lì Questi non hanno subito danni Ok Martellone Martellone Potenzia questi Dai un attacco di fuoco Questi Dai su rutto a piombo A questo punto Li facciamo avanzare Abbiamo risvegliato qualcosa Uh Eccolo qui Ok Colpisci lui Anzi Mettiti un attimo in volo La potenza Potenzia i nostri centauri Torna lì Perché te non stai attaccando Colpisci questi Tiragli una fiammeggiata Ok Avanzo un pochino E chiediamo A questi due Di far fuori Il loro leader Vai su di lui Ritorsione i danni Su te stesso Se ti attaccano E questo qua Martellone pure Ok Mandiamo i nani All'attacco Ora Questi vorrei farli Ritirare un secondo Perché hanno holdato Finora tutto il tempo Qua siamo al sicuro Ma ancora Non siamo riusciti A far fuori Questa unità Incredibile Adesso abbiamo tirato Una bella mazzata Bene Perfetto Da che stanno scappando Tutti loro Loro ogre È morto Ok Voi attaccate loro Voi due Attaccate Loro Voi di là Voi così Lasciamo Emili Emili Voi attaccate lui Tu tira Una bordata A questi Il bestione L'abbiamo fatto fuori Quanto pare Non c'è più Bene direi Ok 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 Basta Smetti di sparare Vediamo che cosa esce Perché Non Non mi dà la vittoria Ok Vittoria di misura Termina la battaglia Oggi Un episodio Dedicato a yogre Allora Questi qua Sono devastanti Anche Se non gli do La carica Infatti Non l'avevano Vedete Questo qua Fa meno danni Perché Gli devo mettere Che attaccami lì Se no Non lo fa Però Molto buono E lui Ne ha uccisi 375 Da solo Perfetto Ah Questi qua Erano i rinforzi Mi credo Neanche li ho visti Quelli sono Tutti questi lupi Rigenerazione No Purtroppo Mi ha teleportato Di là Vabbè Tanto In un turno Di viaggio Almeno Si è potenziato Non sono sicuro Che sia stata Una buona idea Avrei dato questo Che comunque Fa suo Per carità Però Allora Rimettiti in marcia Forzata E corri anche te Ci metti di meno Ad andare qua Per un turno Sei arrivato Ovviamente lui Si muove Molto più rapidamente Con sto Rapplutamento Catale di fuoco No Ok Quindi dai Queste qua L'abbiamo fatto Questa Devo fare Questa battaglia Prima di questa A meno che Non rado a suolo Questo posto Così mi si crea Un esercito di Goblin qua Perché non siamo In una buona posizione Tu sei in guerra Anche con Il clan Morse No perché Se tu attaccassi Lupe nera Sarebbe davvero Perfetto Quindi dobbiamo fare Questi due attacchi Qua Ok Uno E uno Due Questo qua Fra un turno Scompare Non penso Abbia nessunissima Utilità In alcun modo Quindi Potremmo Attirare lui Qui Per quanti turni Scompare Un turno Fra un turno Muori Un turno Un turno quello addosso non è neanche una guarnigione decente va bene dai ci salutiamo qua ci vediamo nel prossimo episodio come sempre spero che questo vi sia piaciuto con lui possiamo andare in marcia forzata e correre qua stiamo sempre dentro i nostri territori ma corriamo qua per conquistare quella torre lì questo esercito non so se sacrificarlo o cercare di salvarlo ma comunque al destino segnato e nel prossimo episodio quindi muoviamo gli eserciti in questa zona di fatto qua per ora non ci hanno ancora attaccato quindi dovremmo resistere ancora del tempo e tu ah qua c'è un girocottero questi stanno tornando ok mi chiedevo che chi fossero cosa stessero facendo voi dove state andando con chi sei in guerra Arkham perché se sei in guerra con i Norsk diciamo puri vieni con tutti i tuoi eserciti nel mio territorio in marcia forzata verso giù che tu vuoi da me? vattene via vabbè dai ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi oggi abbiamo eliminato un po' di ogre GG a tutti ok